Non ha nascosto l'esito negativo dei ballottaggi per il Partito Democratico, ma ha anche fatto dei distinguo spiegando che solo con l'unità si potrà tornare a vincere. Sandro Gozzi, sottosegretario di Stato con delega agli affari europei e fedelissimo di Matteo Renzi, guarda però avanti con fiducia. Su 160 comuni in cui si votava il Partito Democratico, il centrosinistra, ha vinto in 67, la destra ha vinto in 59. Io credo che il vero sconfitto di questa tornata elettorale sia il Movimento 5 Stelle, che praticamente scompare dal panorama della politica locale. E questo non vuol dire assolutamente che le cose siano andate bene, anzi io penso che potevano andare molto meglio. Penso però che ci sia di fronte a noi una destra a trazione leghista, estremista, stile Le Pen, guidata da Salvini. Ci sia il qualunquismo dei 5 Stelle, ci sia un'offerta che il Partito Democratico deve migliorare costruendo un'alleanza dell'idea a centrosinistra. Questa è la sfida che abbiamo nei prossimi mesi. In Abruzzo parliamo un attimo dell'Aquila, capoluogo di Regione. Dopo dieci anni di governo del Partito Democratico è arrivata questa vittoria del centrodestra, forse anche un po' a sorpresa. Secondo lei come mai gli aquilani hanno deciso di bocciare in un certo senso il Partito Democratico? Credo che le divisioni del centrosinistra, le polemiche, gli inutili attacchi nei confronti del segretario del Partito Democratico da parte di altre forze del centrosinistra a livello nazionale non aiutino poi quando a livello locale si presentano delle alleanze di centrosinistra. È perfettamente schizofrenico lavorare e dire che il futuro è il centrosinistra, il futuro sono alleanze di centrosinistra. presentarsi in coalizione a livello locale e sparare contro il baricentro del centrosinistra a livello nazionale che è il Partito Democratico e in particolare il segretario del Partito Democratico che si chiama Matteo Renzi. Prima i nostri alleati lo capiscono meglio è per tutti.